Sono ottenuto il problema, sono qui. Vediamo la scena. La troviamo qui. Poi siamo qui. Le due parlano. Non so, non so. Non so. Quando gestalti si scontriano, si perdono loro. Due nostre ricordi sono completamente perdono. Keine! Allora, qui io non posso fare nulla, quindi, madonna, che bello è da vedere però Ok 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 Ma dovresti fare una decisione indimitante. Faccio tutto ciò che bisogna. Quando il tempo arriva, mi prenderà Kai-Dai. E quando lo faccio, hai bisogno di prendere il cuore. Non, non posso! Ok, non lo credo. Stai con il cuore e guardatevi il tempo. Noi. Poi ho scoperto che il finale è... ...aggiungere un po' di gameplay. Cioè, possiamo skipare tutto fino allo... Per esempio, qui ho incominciato dall'inizio inizio. Ok. Ok. No, Kai, non schifare gli attacchi. Fatti aiutare. Dicevo, bisogna proprio cominciare dall'inizio inizio. Ok. Questo lo possiamo saltare. Oh. Sacrifichiamoci. Ok. E qualsiasi sign che tu avevi mai esistito... ... sarà evitato. Ma in intercambio... ...Kainei potrà tornare a sua vita mortale. ... Vabbè, sì. Tanto devo incominciarlo. Aspetta un attimo. Mi è venuto il nube. Ok. Sì. No. È la cosa... È la cosa giusta. Sì. 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 Non ho mai pescato. Sì. 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 Oh no. Sì. 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 Grazie mille I'm glad you're okay What's wrong? I mean, you defeated the Shadow Lord and everything, but you... you don't look happy I don't? This is a lunar tear. How pretty Are you crying? Yeah, I guess I am It's like... I just found something... special... something... very... special... Jesus... Almeno lei è salva. Almeno lei è salva. Ci vediamo di tu di grata. Ed eccoci qui. C'è altro? ok adesso dobbiamo semplicemente ricominciare il gioco ok ci si vede nella prossima parte amici è terribilmente bello